Il cinema Zambra di Ortona torna alla città con una veste moderna, 256 posti, ma con l'obiettivo di tornare ad essere il luogo di cultura ed aggregazione per i giovani con il quale è nato in uno dei quartieri più popolosi. Il cinema Zambra di Ortona torna alla città. Una giornata indimenticabile che resterà nei cuori soprattutto ma nella mente di ogni ortonese. Ridare alla città uno spazio come questo, lo storico cinema Zambra, dopo tanti anni di chiusura, è un grosso risultato da parte dei salesiani, da parte delle persone che hanno creduto, che hanno lavorato, da parte delle persone che per tanti anni hanno creduto in questa struttura, tra tanti sacrifici e da parte di chi oggi ha creduto in una nuova visione, in una nuova riapertura, in un nuovo progetto che nonostante le tante difficoltà è riuscito a portare a termine. E questa è la mia amministrazione, perché poi le cose vanno sì messe sulla carta ma vanno tradotte poi in concretezza. Siamo partiti da un ordine del giorno del 2015, poi trasformato in delibera nel 2016 e la convenzione è a novembre del 2016 che ha iniziato questo ITER. Noi come amministrazione abbiamo modificato una convenzione che riguardava un centro commerciale della nostra città, trasformandola in monetizzazione dalla quale abbiamo incassato circa 150.000 euro e da lì è ripartito il progetto Cinema Zambra. E questo poi sicuramente è ovviamente avuto bisogno di nuovi finanziamenti, nuove risorse che abbiamo investito volutamente sapendo di ridare alla città uno spazio culturale di cui aveva bisogno. E durante l'inaugurazione il sindaco insieme agli assessori Cristiana Canosa e Vincenzo Polidori hanno consegnato una targa a Don Massimiliano in rappresentanza dei Salesiani e da Gigi Giro, ultimo gestore prima della chiusura. Qualcosa di meraviglioso, come se potessi tornare indietro, gioierei. Mi viene da piangere soltanto a pensare a questa nuova rinascita dello Zambra. A condurre la serata d'inaugurazione Lorenza Sorino ed Arturo Scognamiglio di Un Altro Teatro, associazione che gestirà lo Zambra per un anno in attesa di un apposito bando.